Le ricerche dei rottami dell'aereo della Malaysia Airlines sono state definitivamente fermate. La società privata statunitense Ocean Infinity, ingaggiata dal governo malese, non ha trovato tracce del relitto e ora non si è in programma di finanziare nuove ricerche, specie dopo aver constatato che il peggiorare delle condizioni atmosferiche avrebbe reso complicate le operazioni nei prossimi mesi. L'aereo scomparve l'8 marzo 2014 con 239 persone a bordo mentre volava da Kuala Lumpur a Pechino. In questi anni sono stati esplorati 120.000 km quadrati di fondale dell'oceano indiano, con decine di navi e aerei da ricognizione. Sono stati trovati dei resti dell'aereo, ma non il corpo principale. Prima del tentativo dell'ultima società impiegata in ordine di tempo erano state impegnate nelle ricerche anche l'Australia, la stessa Malesia e la Cina.